Allora noi siamo quasi in chiusura, abbiamo 20 minuti, dobbiamo amministrarceli nel migliore dei modi, quindi invito tutti gli ospiti a parlare il meno possibile negli interventi. Sì, una chicca. Pizzino non va più in pensione. Ha deciso di non andare più in pensione? Vuole stravolgere il significato dello scopo. E allora, autorità portuale rischiano di chiudere, vogliono scipparci anche dell'autorità portuale. Il servizio. Razionalizzare sì, ma in maniera strategica e soprattutto tenendo conto delle realtà virtuose. Il documento economico e finanziario del governo Renzi, almeno sul caso dell'autorità portuale di Messina, però sembra avere giusto qualche defaianza. Nessuna difesa campanilistica si è detto a più voci. Per poter chiedere a buon diritto che l'autore di di Messina diventi guida per i porti della Sicilia orientale o per l'area dello stretto, bastano i numeri. Quegli stessi numeri che dimostrano quanto sia folle dare lo scettro a Catania, che certamente rappresenta la realtà più debole rispetto alle autorità di Messina e Augusta. Noi abbiamo un volume di merci che si attesta attorno a 5 milioni e mezzo di tonnellate annue contro circa 4 milioni di Catania e 1 milione e mezzo di Augusta. Se consideriamo le rinfuse liquide invece noi abbiamo ulteriori circa 10 milioni. Catania non ha rinfuse liquide, parliamo di petroli prevalentemente quando parlo di rinfuse liquide. Catania non ha rinfuse liquide, mentre Augusta ne ha 28 milioni perché è una raffineria molto importante. Se parliamo di passeggeri sappiamo bene che Messina è prima in Italia e ottava in Europa come traffico passeggeri con 9 milioni di passeggeri annui circa. Augusta e Catania non figurano in questa statistica. Allora, gli introdotti portuali sono dovuti alle tasse portuali e ai canoni concessori. Sicuramente nelle tasse portuali prevale fortemente il contributo delle raffinerie. Quindi se vogliamo metterle in questi termini il benessere maggiore ce l'hanno Augusta che ha grandi numeri e Messina rispetto a Catania naturalmente. Numeri alla mano, l'autorità portuale di Messina è forse la realtà più importante, e quella che meriterebbe una valorizzazione anziché la soppressione. Eccoci qui. E allora, sì, i messaggi perché ci stanno sommergendo. Abbiamo appena fatto un parallelismo tra Messina, Augusta e Catania. Ci sono tanti telespettatori che fanno un parallelismo tra le infrastrutture mancanti a Messina e addirittura invece anche le manutenzioni carenti e quello che c'è altrove. Allora, iniziamo con... Avete visto come è ridotta la galleria dell'annunziata e i sistemi di sicurezza vandalizzati, infiltrazioni, ma in che città viviamo? Perché nessuno si occupa della manutenzione? Andiamo avanti, sono un pendolare del tratto annunziata a Gazzi. Ogni giorno se sbaglio l'orario mi metto nel caos. Mi ritrovo a camminare a passo d'uomo in autostrada. Ma che senso ha? Meglio chiuderlo a quel punto. Guardiamo altrove. Quando sembrava che il ponte si stesse facendo, i messinesi protestavano. Ora si lamentano perché sono isolati. Liguri e pugliesi ringraziano perché i soldi istanziati per il ponte sono andati alla Genova-Milano e alla Napoli-Bari. Andiamo ancora avanti. Dall'aeroporto di Comiso ci sono 150 voli operativi sino a novembre. Località come Francoforte, Bruxelles e Dublino sono raggiungibili a prezzi competitivi. Noi invece da dove partiamo? Dal Reggio a Nuoto o da Catania? Dove andiamo con la macchina? Stiamo una settimana e il parcheggio ci costa più dell'aereo? Grazie, grazie per il momento Tiziana. Assessore Cucinotta, la vostra posizione, quella del Comune, io lascerei perdere per ora il discorso consorzio. L'autorità portuale, si rischia veramente di perderla? E la vostra posizione qual è? So che il sindaco a Corinti, sappiamo, è andato e ha parlato con Serracchiani, credo che debba parlare con Lupi nei prossimi giorni con il Ministro. L'opinione è molto semplice. Al di là dei numeri che sono veramente schiaccianti, evidenti, Messina in questo momento si trova a fronteggiare una complessità, una difficoltà sotto gli occhi di tutti, che deriva da almeno due o tre diverse peculiarità. Messina è una città che ha un fortissimo legame con la città antistante, con la conurbazione del Reggio Calabria, Villa San Giovanni e villaggi vicini. E anche luogo di transito di merci e passeggeri invece che usano Messina semplicemente come snodo. Quindi sono due problematiche completamente diverse, li buttiamo sempre nello stesso calderone, trattiamo sempre nello stesso modo, ma in realtà sono due cose sostanzialmente estremamente diverse. In più c'è il sistema portuale di Milazzo e di Gian Moro, che è il sistema che veramente ci dà possibilità di espansione di un futuro anche commerciale diverso, perché attualmente il nostro sistema portuale è proprio localmente messinese. Non deve chiudere questa autorità portuale, secondo voi? Allora, chiudere assolutamente sarebbe un errore, sarebbe un allontanare. Se poi addirittura ci pensiamo che questa autorità portuale dovrebbe essere nel disegno quella della Sicilia orientale, localizzata a Catania, allora lì diventa anche una beffa politica. Perché non solo chiudiamo noi che ne avremmo tanto bisogno, ma in più ci vediamo delocalizzati verso una scelta che è semplicemente politica e non strategica, non ha nulla di pianificato. Zanotto, voto il Movimento 5 Stelle. Allora, in due parole, secondo il mio modesto parere personale, centralizzare non ha mai portato ad un efficientamento, anche perché nel momento in cui si crea un polo amministrativo a Catania, sicuramente ci vorranno almeno quattro poli operativi nei singoli porti, perché pensare di agire da Catania, già ad Augusta, lo trovo alquanto distante, immaginiamo dover fare, risolvere un'emergenza che si trova a Milazzo, diciamo, credo sia folle. Con la scusa dei baricentri poi magari si localizzano. Credo sia folle. Nell'unico rapporto è tanto. Perché noi stiamo valutando, stiamo cercando di quantificare i benefici economici che derivano appunto da una centralizzazione, ma poi non stiamo per niente calcolando quelli che sono invece i difetti economici che vengono dai disservizi che sicuramente... Chiaro, onorevole Garofalo, lei è stato presidente dell'autorità portuale, in Commissione Trasporti, conosce benissimo l'argomento. Qual è effettivamente la situazione? Come la vede lei? Deve essere breve però, la prego perché abbiamo... Breve non posso essere, quindi già rinuncio. No, 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 rinuncio. La prego. Perché non posso essere breve, perché su questo... La invito anche per la prossima trasmissione. No, 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 se posso parlare, parla adesso. Su questo tema, allora, c'è una posizione che ho dichiarato a tempo, quella mia personale, ma devo dire che... E qual è, ce lo ribadisca? Che è quella che la vede a portuale da Messina non deve scomparire. Questo sia chiaro, io porterò fino in fondo questa battaglia e se non fossi... Anche contro Lupi che è il suo ministro. Anche contro Lupi, se Lupi vorrà fare una cosa sbagliata. Su questo non c'è dubbio, ma Lupi lo sa, perché glielo ho mandato a dire con i giornali proprio che è l'elemento più evidente possibile. Ma Lupi ha un obiettivo. Questo obiettivo lo ritengo giusto. Le autorità portuali hanno mostrato in questi anni grandi capacità, ma in una cosa sono state deficitarie. Fra di loro spesso sono fatte concorrenza. E in un sistema che deve competere con gli altri sistemi in Europa e nel mondo, deve invece essere differente. Quindi primo problema. Secondo problema è che le autorità portuali non discutono bene con ferrovie, interporti, con tutto quello che è il mondo della logistica. Ed è un altro problema. Quindi in Italia a questi due problemi, qualunque ministro, non il cognome è irrilevante, un governo deve dare una risposta. Ci hanno anche pensato governi precedenti. In questa fase, che ovviamente credo che i governi mostri un po' più di coraggio in una cosa che non è facile, si vuole andare fino in fondo in questo processo. Ma questo processo noi lo possiamo affrontare a testa alta, a Messina, proprio perché Messina ha i numeri e non solo i numeri, ha la posizione, ha la storia. E ha puntato molto sul porto. Questo, credo, questo passaggio, questo passaggio sia stato già abbastanza chiarito a Lupi. Da me personalmente, tra l'altro, fino a oggi l'ho sentito, per conoscere i tempi. Ma ho voluto accompagnare... Quali sono i tempi, li faccia conoscere? Ma i tempi, intanto, i tempi che sembravano collegarlo alla spending review, che sarebbe stato un errore, perché era un segnale, in questo, a ragione... Zanotti. Zanotti che dice guardarlo come spending review è sbagliato, perché non si dà un beneficio economico. Il problema è invece quanto questo sistema possa rendere più al Paese in termini di sistema. I tempi saranno sicuramente non prima di fine maggio, si discuterà. Così si ha più tempo a, come dire, mettere in campo l'azione strategica giusta per il Paese, che non può che essere una scelta che deve andare nella direzione dove chi conta, chi lavora, chi dà il servizio migliore... Le ha dato qualche possibilità, è stato possibilista Lupi. Ma assolutamente, Lupi adesso conosce molto meglio la situazione, insieme al sindaco con il quale siamo stati, insieme alla Serracchiani, anche perché era giusto che la parte preponderante del governo, la parte preponderante del governo, perché questo è il governo maggioranza schiacciante PD, conosca bene le peculiarità di Messina. C'è un dato sul quale c'è una falsa partenza, che purtroppo l'Unione Europea, che fa tante cose sbagliate, anche in questo caso ha fatto una cosa sbagliata, e questa però gioca a sfavore di Catania. Abbiamo i cosiddetti core network e il comprehensive network, non vado a spiegare se no, il core è più importante del comprehensive. È stato inserito a Augusta, perché da Augusta da sempre si è strugnato la grande piattaforma logistica, che non si è mai fatta. Io sono quello di casa mia, conosco quello di casa mia. Messina è un porto, invece in ogni caso sancito a livello europeo, quindi è un comprehensive. Catania non è nessuno dei due, quindi Catania è già al di sotto di queste due. Deve restare Messina, abbiamo capito. L'occasione vera, io prima ho parlato meno, ho avuto meno occasioni, anche perché il CAS come comune ci riguardava soprattutto la questione di svincoli che poi non è stata neanche affrontata, ma non mi riguardava sulle altre. L'occasione vera, quella che veramente farebbe fare il salto di qualità alla città e che risponderebbe al secondo punto indicato ora dall'onorevole Carofalo, sarebbe quella di creare veramente un'autorità portuale dello stretto, un'autorità che abbia competenze non solo da questo punto. Quindi Reggio e Messina. Avere per la prima volta un ponte istituzionale che scavalca lo stretto e che ci permette una vera programmazione, una vera cooperazione con gli altri enti, con le ferrovie. Ho sbagliato puntata, mi sa che lo devo invitare pure alla prossima. Chiaro, chiaro. In questo momento diamo degli alibi all'autorità portuale, tutte le qualvolta il servizio, ci ritroviamo i tiri in città, il servizio non funziona, gli orari non sono rispettati, perché l'autorità portuale messinese ha una competenza monca. Grazie, Barresi deve essere breve, lei la prego, a lei lo posso chiedere, all'onorevole Novi che mi chiede. Intanto mi dai del lei ed è pericoloso. Degliela dici di autocotare per forza, me lo impone l'etica. Stava dicendo bene l'assessore Cucinotta, è la soppressione dell'autorità portuale di Messina in ogni caso è in antitesi con l'idea di fare l'area metropolitana dello stretto e quindi in ogni caso si perderebbe la centralità dell'area dello stretto e che va proprio anche nell'ottica di quello che vuole fare il ministro Lupi, cioè quella di ridurre il numero complessivo dell'autorità portuale ma creare delle grandi autorità distretti ubicati in posti strategici. Il problema è uno però, difendere l'autorità portuale senza ombre di dubbio, però ci sarebbe anche tanto da dire sulla governance dell'autorità portuale. Dica qualcosa, non tutto. Dico, l'autorità portuale per come è stata governata fino ad oggi oggettivamente è stata più oggetto di tutela di interesse privato che dell'interesse pubblico. A cosa stai parlando? Delle qualità di Uvandum hai tra gli autotrasportatori fatto... L'autorità portuale di Messina in seno ha un comitato portuale e l'organo collegiale su cui il comitato portuale si approvano i bilanci, si danno le concessioni delle aree come l'area di San Francesco. Comitato portuale che è l'autorità di gestione? Sì, oggettivamente è molto strabrico orientato a tutela dell'interesse privato, buona parte del comitato portuale è costituito... Ma è quella che una volta difendere legittimamente l'autorità portuale di Messina deve cambiare questo sistema, avere l'amministrazione comunale in maniera più incisiva presente all'interno dell'autorità portuale in modo che possa gestire bene effettivamente lo sviluppo di aree importantissime per la città, del sistema di mobilità dello stretto, fare scelte importanti per il bene comune e non per gli interessi di pochi. Il comitato portuale è costituito attualmente da una parte istituzionale, rappresentante le istituzioni, comandanti dei porti, sindaci eccetera eccetera, ma una buonissima parte dagli armatori, dalle imprese portuali, persino molto orientata nelle scelte da questa parte dell'interesse privato. C'è un conflitto di interessi? No, no, c'è un interesse solo che è quello privato. Una parte del comitato portuale è eletto democraticamente, sono cinque rappresentanti dei lavoratori portuali, eppure tra questi ci sono lavoratori che sono dei lavoratori di serie A, cioè c'è il rappresentante di Caronte e Turist di Ziano Minuti, che non è proprio un operatore portuale, diciamo un manovale portuale, è un rappresentante degli interessi dell'armatore. C'è un comandante di Blue Ferris, che non è uno scaricatore di porto, ma è un rappresentante di un'azienda, e quindi il braccio destro di un armatore. È molto orientato anche in quelle che devono essere le cariche, diciamo, per tutelare altri tipi di interessi. Guarda caso, sono tutti interessi indirizzati. Marresi, è stato chiaro, è stato chiaro, Zanotto, volevo aggiungere, e poi voglio sentire Blandina, perché lui ha fatto parte, fa parte ancora del comitato portuale. Si potrebbe sentire anche la cittadinanza, cosa che finora, diciamo... Con i referendum che non vengono mai indessi. Ma se non altro, provate a sentire che cosa ne pensano. C'è questo istituto che non viene sfruttato. Il ruolo della autorità portuale. È vero. Sentiamo Blandina, le cose stanno come dice Barresi? No. Mi stupisce che tu dica di no. Te lo dimostro e poi a conflutazione. Dalla storia della città, dalla concessione della gara San Francesco, dalle prove. Quando mi darai la parola, se tocca a te, io parlo, se no sto rigorosamente in silenzio. No, non lo so. Qua c'è il presidente dell'autorità portuale, l'ex presidente dell'autorità portuale, Carofalo. C'è una testimonianza diretta su quali sono i presunti equilibri o le presunte pressioni del comitato sulla politica di indirizzo del comitato stesso e quindi dell'autorità portuale. La composizione in questo momento mi pare siano 26 i componenti. Di questi, di espressione delle categorie imprenditoriali. Ma non ce lo siamo inventati noi, ce l'ha inventato il legislatore. Quindi cambiate la legge e facciamo prima. Non è solo quello il problema, il problema è quello di verificare, così come è stato verificato più volte, perché anche noi siamo stati oggetto di esposti e di denunce sulle delibere adottate da questo comitato portuale che nella composizione non è cambiato perché non è cambiata la legge. E alla fine, siccome è prevalso sempre l'interesse quale, quello che il comitato come organo collegiale deve esprimere. E siccome l'autorità portuale non è neutra rispetto alle cose, all'indirizzo, rispetto alla sua mission, molto spesso gli strumenti di pianificazione e di programmazione devono trovare un momento di condivisione all'esterno del comitato. Anzi, è successo e succederà che il rappresentante del comune, della provincia, della regione, della Camera di Commercio, lì esprimono un parere e in altri atti, magari nel momento in cui bisogna cercare il concerto per l'adozione di strumenti di pianificazione, sì ma allora rimane il sospetto che noi ci facciamo gli affari nostri e che quindi fate le denunce e tagliamo corto. Quello che invece voglio dire a questo punto, perché mi sembra molto più interessante, al di là dei soliti... No, ma anche questo è interessante. No, è interessante, è suggestivo, non è interessante. La governanza pone dei problemi di conflitti di interessi, attenzione, ma come li può porre un qualunque consiglio di amministrazione? Quando c'è un conflitto di interesse ovviamente le persone che... Si alzano e vanno... Devono alzare, perché altrimenti la delibera... Diciamo che un presidente di autorità portuale ha tanti compiti che può svolgere in autonomia rispetto al comitato portuale, quindi è snella l'attività. Io non ricordo mai di aver avuto dal comitato portuale impedimenti quando ero presidente. Vero è che diverse volte, anche con Blandina, noi eravamo perfettamente in sintonia su alcune scelte, ma io facevo la scelta del presidente, il comitato poneva le proprie condizioni e alla fine però si arrivavano a determinare che quasi sempre non abbiamo avuto in quegli anni problemi neanche giudiziari, è bene sottolinearlo, perché alla fine no, ma non è bene male, perché se la conduzione è nell'interesse pubblico, all'interno dell'interesse pubblico ci sarà un privato qualunque indefinito che avrà come dire una... però nel quadrienne c'ero io e non credo che le cose siano cambiate. Poi probabilmente in questo periodo ci sono state alcune cose più scottanti, però anche quando ero presidente io ce la posso cambiare. Vuole completare. Se no ci ritroviamo sempre a fare da una parte la difesa d'ufficio dei processionali e dall'altra... No. Io a proposito del destino dell'autorità portuale di Messina, ma io tornerei a occuparmi perché forse è più utile al tema di come si governano i processi, quale sia lo strumento adatto. È ovvio che in assenza dell'autorità portuale di Messina dovremo andare col cappello in mano a Catania o ad Augusta. E Augusta perché qualcuno dalla Sicilia sudorientale è andato a Bruxelles e è riuscito a convincere con una suggestione priva di qualsiasi fondamento che Augusta sarebbe diventato di lì a poco il centro del mondo, dal punto di vista trasportistico, portuale, marittimo ed economico. Iniziamo dai carichi alla rinfusa, alle rinfuse liquide. Non è certo che la raffineria, che il sistema del petroletrimone ad Augusta di qui a 15 anni sia ancora in piedi. Forse questo piacerà poco agli ambientalisti, piacerà poco a chi ne subisce l'impatto nelle sue articolazioni tutte, positive e negative. Evidentemente la raffineria di Milazzo invece ha un destino molto più lungo. Perché? Perché ha fatto centinaia e continuano a fare centinaia di investimenti nell'ambientalizzazione e nella sostenibilità dei propri... E ha più senso, lei dice, tenere... No, e nei fatti. Certo. Prima sul petrolchimico. Sì. Secondo, sul traffico merci. Ad Augusta si fa poco e niente destinato a un mercato che è ristrettissimo, è un giardino. Tant'è che l'unico traffico contenitori che si è tentato di attestare in questa previsione fantastica della rete Cor, dell'essere in un posto dove dovrebbe succedere qualcosa, come se Ponte Chiasso diventasse domani il centro del mondo, perché ci passano il... Stai, queste due notizie che vi leggo. Non sono troppo lunghe, vero? No, 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 vi leggo il titolo. Ci sfumano. Sì. Ship to Shore è il giornale e il magazine del mondo dello shipping e del trasporto in Italia. Il 15 settembre 2008 titolò, con grande evidenza, K-Line innesca il Maxi Terminal di Augusta. K-Line è un grosso operatore terminalista e legato ai più grossi player del trasporto containerizzato. Sto parlando di settembre 2008. Esattamente un anno dopo, meno un giorno, il 14.09.2009, lo stesso giornale titola, K-Line fugge da Augusta. E la conclusione è omississi. Infatti ha persino rinunciato ufficialmente al contributo di 15 milioni di euro che il Ministero del Sviluppo Economico le aveva riservato. Non hanno movimentato nulla. Sono sbarcati 150 contenitori vuoti, ne hanno imbarcato, ne abbiamo imbarcato attraverso una nostra controllata. Il mercato segue le sue regole e viaggia sopra le teste anche degli operatori. I flussi di traffico non si catturano con le reti a maglia larga, si catturano con i servizi, con i concetti nuovi legati agli hub mobili o quelli destrutturati. Le tre più grosse compagnie mondiali del trasporto contenitore si sono alleate, che significa non hanno più distinzione sulle navi su cui mettono i loro contenitori e su cui comprano gli slot. Il mondo cambia alla velocità della luce. Che qualcuno dica che Augusta diventa il centro dello shipping quando noi facciamo numeri che sono semplicemente da paura e siamo l'unico porto che grazie a quello che è successo nei primi dieci anni di vita dell'autorità portuale, anche quando c'era l'onorevole Garofalo, perché le autorità portuali in Sicilia hanno fatto in genere poco più, devo finire questo. Noi siamo gli unici ad avere speso tanti soldi e fatto infrastrutturazione vera, non arredo urbano. Oggi siamo al palo e questo ci costa perché dobbiamo rimettere in moto la spesa produttiva in investimenti perché abbiamo un avanzo d'amministrazione, abbiamo 60 milioni di euro in cassa e incassiamo 16 milioni di euro dal traffico. Grazie, grazie Blandina. Sciacca, lei che è stato brevissimo, lei è molto sintetica del rock, anche lui però. È paradossale che questo fa capire che per difendere l'autorità portuale bisogna dire delle cose che dovrebbero essere già scontate. Anche qua la politica, o almeno una certa politica che non sa ascoltare la gente, non sa ascoltare il territorio. Se a questo aggiungiamo che anche di recente ci sono stati degli onorevoli deputati regionali che hanno dichiarato, penso l'abbiamo letto tutti, che per mantenere l'autorità portuale bisogna dare impulso all'ente porto. Ma se abbiamo detto tutti lo sanno... Spero che sia soppresso l'ente porto. No, la dichiarazione dei deputati regionali diceva che bisogna... Allora scusa, l'onorevole picciolo e l'onorevole greco, pensavo che era evidente. Hanno detto testualmente nella casetta del sud, c'era riportato, che a questo punto per ridare forza all'autorità portuale bisogna fare in modo che l'ente porto riviva di luce propria e bisogna quindi rivitalizzarlo. Ma se abbiamo detto che l'ente porto non va soppreso, va eliminato, va cancellato, perché ha prodotto degrado, abbandono, inquinamento, sperpo di denaro pubblico, ancora manteniamo il bancheraggio e manteniamo quelle porcherie delle zone più belle della città di Messina e nella Ciccia. Allora, questa è politica, quella mala politica di cui parlavamo prima o no? Chiarissimo. Non lo so, dico, non lo chiamo. Non lo sappia scegliere. Ma non è il problema di scegliere, il problema è che a volte uno deve dire le cose con nome e cognome, perché se a giustamente dici tu, parliamo in generale di politica, no, diciamo che c'è persone e c'è gente che fa politica in un modo che non ascolta la gente. Più chiaro di così, Biancoso, gli dà il microfono a Mafodda, Antonino Mafodda, ci spiega come è possibile vivere, perché anche quello è collegamento. Lei vive vicino a un depuratore a San Sabba? Io purtroppo vivo proprio a… il depuratore l'hanno messo a casa mia. A casa sua l'hanno messo? Sì, a 50 metri della mia abitazione e purtroppo… E la pagano, le danno soldi per questo il comune? Sì, sì, il comune è stato diffidato, cioè nel 2008 c'è stata fatta una causa per coprire le vasche di decantazione che sono a cielo aperto e per me l'estate non dovrebbe venire perché quando abito là viene l'estate… Dove siamo a San Sabba? Sì, viene a Torrentemella. A Torrentemella, quello famoso del ponte che… Eh, proprio… Mamma mia, siete sfigatissimi a Torrentemella. Sì, viene l'estate e io mi devo trasferire, la gente viene a fare la belleggiatura e io mi devo andare da casa perché il periodo… Ma lei l'ha detto al comune, a Lama, a Malachi, chi che so? Abbiamo fatto già la prima causa. Sì, e com'è finita? Sì, è partita dal 2006 e allora il tribunale ha intimato al comune di coprire le vasche e di fare una… L'hanno fatto? No, dal 2008. Ma manco per la funcia. Prego, grazie. Biancuzzo, Biancuzzo, due le frane sulla strada alle 113 più importanti ad Acqualadroni, da quanto tempo stanno in piedi? Sì, guardi, queste due frane si sono propagate il primo marzo del 2011, una sulla strada strada alle 113 che deve provvedere l'ANAS, hanno fatto già le prove geognostiche… Ho fatto già le prove geognostiche, l'ANAS ha provveduto e mi hanno riferito che stanno preparando un progetto. Ma da quanti anni ci sono i tempi? Dal primo marzo del 2011, tre anni, abbiamo mangiato la terza torta, mentre sulla strada che collega la strada strada alle 113 con Acqualadroni c'è una frana propagandosi pure il primo marzo del 2011 che è pericolosissima, i residenti rischiano di essere isolati. C'è un progetto che ha redatto il Comune che doveva essere approvato e mandato a Palermo che la regione Sicilia era pronta a mandare 300 mila euro da spendere per posizionare i massi a mare ad Acqualadrone per la realizzazione di questo muro e un altro muro anche a gesso. L'ascolta di più l'amministrazione a Corinti, le vostre istanze? No, guardi, guardi… Il decreto la settimana scorsa… Scusi, io onestamente dico, l'amministrazione a Corinti è arrivata ora, però glielo dico con molta franchezza, saranno come gli altri, perché… Loro sono come gli altri? Sì, ma non è che ci colpono loro, è la politica che non cambia, è la politica che a Messina non cambia, perché il sindaco a Corinti mi ha completamente deluso, mi ha deluso, perché quando è arrivato giusto a tutti i tornelli, per ora con lui non si può parlare, io ho mandato 5 lettere che volevo un incontro con lui, proprio, no, io mando le cose giuste e sono andato anche di presenza a parlare con l'impiegata, no, no, io ingegnere lo sa… 5 è il minimo sindacato, ma dico 5 è normale… Quante ne ha mandate? 5? Dica la verità, Biancuso, ne ho mandate diverse, volevo chiedere al sindaco di affrontare… 5 me ne vanno messaggi a me al giorno… No, no, dico, volevo chiedere al sindaco di affrontare il problema del casello, va bene, visto che lui è vicino alla gente, però mi ha deluso perché ormai là ci sono le maniglie, non si entra più, mentre prima si passava, ora non riceve, o perlomeno forse non riceve me perché sa che io faccio parte di un altro gruppo… Lei, ma lei è UDC? Sì. E non siete vicini al sindaco? No, io no. No, ah no, lei no. Onestamente no, io su questo le stavo dicendo… Scusi, 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 stiamo deviando il discorso, non scherziamo perché… No, no, ma io non scherzo mai. Allora, cittadini della riviera nord, perché il comune di Messina è Piazza Cairoli, Via Garibaldi, Corso Cavour e San Salmo e parte della Tommaso Cannizzaro, l'estrema riviera nord è totalmente abbandonata, ci hanno tolto le circostruzioni, i centroservizi, l'ATM non transitano, ci hanno tolto persino il 118, non c'è più il 118 che era a Castanea, quindi noi non abbiamo più niente, la posta che c'era, l'unica aperta a Santo Sabba non apre più, l'erosione della costa, l'erosione della costa che sale sempre di più e nessuno fa niente, la fogna che va a mare e lei ha visto le foto… L'ha pubblicato le foto. Quindi automaticamente io non so più se c'è un santo dove devo andare, pensavo che Santo Renato poteva fare qualche cosa… San Cucinotta io… E' onesto, è una persona onesta, non è capace di farlo… Il Consiglio ha ragione su tantissime cose perché devo dire che è vero… Che si riguarda gli altri? No, no, che i problemi della zona nord sono così complessi che non si risolvono facilmente e non si risolvono in niente. Sulla questione della frana io sono stato in protezione civile due giorni fa, mi hanno comunicato che hanno trasmesso il decreto di finanziamento, loro aspettavano un nostro cofinanziamento per completare… Scusi Assessore, io questa vicenda l'ho seguita attentamente, ma non perché voglio fare il saputello, è perché vivendo lì, tocco a contatto, voglio dire, questi 300 mila euro… No, no, scusi Assessore, questi 300 mila euro debbono servire per fare un muro in contrata freschia a gesso, per posizionare i massi a mare, sempre ad acqua ladrone, per la realizzazione di questo muro, perché? Questo muro bisogna farlo adesso, perché per chiudere la strada bisogna tracciare una strada del torrente, Corsari, in modo che arrivano gli abitanti ad arrivare a casa, ma non è che possiamo vivere ancora così, con la paura che le massi a mare con i solari. Facciamolo rispondo, Cucinotta, cosa le promettiamo? Ieri mi diceva il direttore generale della protezione civile che ci hanno trasmesso il finanziamento, quindi… Quanto? 300 mila euro. Sono 300 mila a cui si aggiungono 50 mila del comune. Perfetto, grazie. Passeri, cosa voleva dire? Passeri, facciamo dire a Passeri, se no non le avevamo più i sopra. No, mezzo minuto gli spiegavo il cerchio magico e dove casca l'asino alla regione siciliana, perché tutto capita là. Sì, perfetto, hai spistato questo cerchio magico. No, in che senso? Perché l'assessorato dei lavori pubblici, dove ci blocca tutto, perché noi siamo solo sotto il controllo e la vigilanza, perché la regione siciliana a noi non trasferisce un euro di finanziamento. E allora noi abbiamo fatto due commissioni, la quarta e la quinta, Presidente l'Onorevole Macello Greco, dove è scritto tutto, e l'ingegnere 5 Stelle Trizzino, dove là c'è specificato tutto. È un ingegnere che ha 5 Stelle come lo sceriffo, ah 5 Stelle. No, 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 è della regione siciliana, dove c'è spiegato tutto, scritto tutto, non si dice il motivo perché tutto è fermo. Mi auguro che l'assessore nuovo alla regione siciliana, alle infrastrutture, l'ingegnere Torrisi, possa superare questa situazione. Chiudiamo con un messaggio. Volevo solo precisare che Messina è la porta della Sicilia, anche per questo dovremmo avere benefici in termini di lavoro e servizi. Invece a Messina l'ATM è inaffidabile, la metroferrovia non funziona, la spazzatura è dappertutto. Le strade sono piene di buche e non ci sono manutenzioni, grazie a quei politici che si fanno solo vedere nel periodo dell'elezione. Andiamo avanti? Ci hanno tolto tutto, i Molini-Gazzi, la San Pellegrino, l'Arsenale e forse anche l'autorità portuale, non ci resta che pagare le tasse finché potremo. Perfetto, vediamo di ridere un po' con Gui. Ah sì, sono qua. Sì, ok. Allora, stili e stili di autostrade. Uscita giostra, 1000 punti. Poi uscita annunziata, 1200 punti. Poi Messina-Catania, più Messina-Palermo, più bonus, 3000 punti. Paga e vinci autostrada da mare. E questo è uno. Andiamo un'altra. Poi abbiamo Promesse-Ponte, Gui-Avanti Cristo. Mi aveva detto, dice. Faremo Ponte. Faremo Ponte. Ancora che rito. Ponte Romano, poi. Ancora che rito. Andiamo avanti. Poi una la dedico qua a Zanotto. Mi hanno detto che quando pioverà vedrò Venezia. Vedrai. Questa gliela regaliamo. Sì, sì, sì. Andiamo avanti. Film, sempre Zanotto. Cito Luchino Visconti. Morte a Venezia. Canzone, come triste Venezia. C'ha la nabur. Meglio noi. Meglio noi. Ciuri, ciuri. Ciuri, ciuri. Così e via. Forza, avanti. E poi finiamo in bruttezza, in bellezza. Chi è? Ma come Barresi è brutto. Si è preso di confidenza. Barresi, Barresi. È una battuta. Ah, Barresi, Barresi. Buzzanko una volta l'ha chiamato così. Barresi, Barresi. No, non lo so, non lo so. Non ha portato bene a chi? A Buzzanko. Io mi sono permesso perché glielo avevo fatto vedere prima. Abbiamo chiuso. Grazie, grazie a cui il nostro vignettista. E allora noi continueremo a parlare di isolamento sull'isola. Anche nella puntata del 25 aprile, festa della liberazione. Ci saranno anche lì ospiti importanti. Parleremo di flotta comunale. La fate questa flotta? Che lavoriamo? Eh? Un po' si è incazzato. Che dice che la fate molto lenta, andate molto lentamente. Il progetto della flotta comunale è... Nello stesso cassetto del progetto del contratto di servizio dell'APM. Non si sa di quale comodino stiamo parlando, ma è nello stesso cassetto. Assessore, lo perdete, Tinaglia, se non fate questa flotta? Tra l'altro era nel programma anche lì a Corinti. Certo, no, no, ma la flotta non la dobbiamo perdere. I numeri della flotta li daremo nella prossima puntata. Ma posso dire una cattiveria? Prego. Di Tinaglia vi siete presi il piano di circolazione dei bus dell'ATM, vi siete presi il piano che avete pubblicato adesso, decennale di ATM, che è quello di Tinaglia. Quindi qualcosa di Tinaglia lo siete preso. Se poi lo mettete e lo buttate... Ce l'avremo nella prossima puntata di Tinaglia e spero anche il sindaco, se no sarà costretto a tornare anche l'assessore Cucinotta. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie all'onorevole Garofalo che deve andare a Reggio. Come va il Reggio? Con la nave? Sempre con la nave. Sempre con la nave. A nuoto non ci riesco, non sono capace. A pagare tutti quei gran soldi su quel... I residenti non hanno nessuno sconto. Grazie a tutti voi per averci seguito, buonanotte. E per te, per me, per la figlia dell'Ure. E per te, per me. E per te, per me, per la figlia dell'Ure. La taranta per camo e tipi si calungo. La taranta per camo e tipi si calungo. Mi piacca, mi piacca. Mi piacca, mi piacca. Mi pizca, mi pizca Mi pizca, mi pizca, mi pizca Mi pizca, mi pizca